Buonasera Buonasera a tutti Benvenuti Visto che questa è la mia prima spresa con voi Di condividere e di fare questa bella serata Penso che siamo rimasti tutti quanti contenti, no? Come no E cercheremo di fare pure altre Però io vorrei ringraziare ognuno di voi Per la vostra presenza Per ogni persona che ha portato qualcosa da condividere con noi Ecco, il messaggio che vi voglio dare Il senso della comunità Questa è la comunità nostra Sento sempre questa parola che siamo pochi Siamo pochi Però stasera siamo stati tanti Ecco, allora Se ci vogliamo la nostra forza Ci possiamo fare tante altre feste, no? Altre cose insieme Allora Io ho bisogno di voi Voi avete bisogno di me Allora Messe insieme Ci riusciamo a fare Belle serate Allora Grazie a ogni persona Che ha portato qualcosa Per condividere Grazie a ognuno di voi Della vostra presenza Questo qua È un La prima serata Che noi stiamo facendo insieme Come dicevo prima Ma non sarà l'ultima Sarà la prima E poi ci saranno altre serate Però questo ho bisogno anche Del vostro sostegno Sia morale Ma anche quello economico Perché sapete Per fare una serata Ho bisogno di tutti quanti voi Allora Liberamente C'è un anche cassetta fuori Chi vuole partecipare All'offerta Tutto per questo Che abbiamo comprato Perché sapete Che ci sono tante cose Che abbiamo comprato Abbiamo condiviso E un grazie a tutte le persone Che hanno portato Le cose per condividere insieme Allora vi auguro Buona serata E ora Facciamo un bel papo Penso che Che possiamo fare Perché sono Un buon più Bravo 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 Bravo